numero 5 pulitore a vapore con un motore dalla potenza di 1900 watt il serbatoio ha la capacità di un litro la caldaia in lega speciale di alluminio permette un riscaldamento veloce e risparmio di energia questo pulitore offre una pulizia profonda su tutte le superfici anche in caso di amici pelosi rimuove il 99 per cento di germi e batteri senza l'utilizzo di agenti chimici ideale per pavimenti porte interruttori vetri piastrelle e tanto altro se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 pulitore a vapore dal design ultra sottile compatto realizzato con materiali termoisolanti ignifughi sicuro da usare può raggiungere una temperatura di 100 gradi offre una pulizia profonda grazie al potente motore da 2600 watt rimuove facilmente ogni tipo di sporco non occorre aggiungere alcun detergente dotato di una regolazione automatica della temperatura dispone di una forte forza di spruzzo dispone di diversi accessori per ogni tipo di esigenza acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 ottimo pulitore a vapore con un potente motore da 1500 watt il vapore è pronto in pochi minuti e garantisce una pulizia efficace e profonda in tutta la casa senza l'utilizzo di detergenti o sostanza chimiche pulito impeccabile grazie ai 1500 watt di potenza il vapore è pronto in pochi istanti ricco di accessori come tubi di prolunga spazzola lavavetri panno in microfibra per pavimenti spazzola tessuti e tanto altro nel comodo vano integrato potrai conservare tutti gli accessori in dotazione per averli sempre pronti a portata di mano in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 2 pulitore a vapore multiuso con un potente motore da 2000 watt può eliminare il 99 per cento di acari di virus e batteri dannosi per bambini e animali domestici il serbatoio dell'acqua è molto capiente offre fino a 45 minuti di vapore continuo adatto a tutti i tipi di pavimenti e moquette alle superfici dei mobili a finestre bagno barbecue materassi servizi igienici e tanto altro dotato di 17 accessori versatili per tutti i tipi di pulizia facile da usare progettato con due ruote girevoli e una comoda impugnatura se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 1 pulitore a vapore multiuso completo di 17 pezzi e dotato di un potente motore da 1500 watt ideale per pavimenti auto uso domestico e altro ancora pulisce disinfetta elimina il 99 per cento di virus e batteri sgrassa qualsiasi superficie dispone di un vapore potente il serbatoio offre fino a 50 minuti di pulizia per ogni riempimento questo pulitore è perfetto per la pulizia dei pavimenti basta un normale panno o un asciugamano e non richiede costosi cuscinetti speciali due anni di garanzia una soluzione efficiente e affidabile per la pulizia e l'igiene in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto